La scuola dei grandi. Anche i grandi a scuola vanno, tutti i giorni di tutto l'anno. Una scuola senza banchi, senza grembiuli né fiocchi bianchi. E che problemi quei poveretti a risolvere sono costretti? In questo stipendio fateci stare, vitto, alloggio e un po' di mare. La lezione è un vero guaio. Studiate il conto del calzolaio. Che mal di testa il compito in classe. C'è l'esattore, pagate le tasse. L'ascensore. Io so che un giorno l'ascensore al quarto piano non si fermerà. Continuando la sua corsa il soffitto bucherà. Salirà tra due comignoli più su delle nuvole del vento e prima di tornare a casa farà il giro del firmamento. La galleria. La galleria è una notte per gioco. È corta corta e dura poco. Che piccola notte, è scura scura. Non si fa in tempo ad avere paura.